Buongiorno, mi chiamo Alessandro Zambelli, sono un fisioterapista, mi occupo di terapia manuale e rieducazione in ambito ortopedico. Tecnica Gavilan è degli strumenti che ho a disposizione per andare a lavorare con il paziente e mi permette di aumentare l'efficacia con il paziente sin da subito. La persona ha un'immediata percezione del lavoro, della terapia, del trattamento che stai facendo con lei e questo aumenta secondo me anche quello che è la relazione terapeutica. Bella domanda, per mettermi in gioco perché volevo una prospettiva diversa e volevo confrontarmi con tanti colleghi che sicuramente sanno dare spunti, domande, riflessioni, sanno anche un po' metterti in difficoltà e è sempre bello, è sempre costruttivo. Tecnica Gavilan ha migliorato il mio lavoro aumentando la rapidità di fiducia. Io tratto il paziente, subito lui ha una percezione di quello che io vado a fare sulla persona e e questo è importante perché le persone al giorno d'oggi si aspettano sempre dei risultati immediati. Risultato che poi deve essere integrato con quello che è il mio background. Ma tecnica Gavilan è lo sprint in più che tutti cerchiamo. Venite tutti a partecipare al Corso Gavilan. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!